Un ostacolare incidente avvenuto su una superstrada, incidente che però miracolosamente si è concluso senza vittime. Si vede l'autista di un bus che improvvisamente sterza per evitare un ostacolo in strada, ma un palo della luce manda in frantumi il parabrezza che penetra nell'abitacolo colpendo l'autista e sfiorando alcuni passeggeri. Nelle immagini che seguono si capisce il motivo dell'incidente, nell'altra corsia un'auto perde il controllo e va a sbattere contro il palo della luce, vedete che cadendo va ad invadere l'altra corsia e si abbatte proprio sull'autobus.